Ciao a tutti, sono Anna Cacioli e sono l'autrice della Fiera dei Papà, un libro illustrato da Morgana Lucarelli ed edito da Mimi Boo. La storia nasce l'anno scorso, quando tra le mie conoscenze parlavo con un paio di mamme, i cui figli hanno papà assenti, e quindi mi raccontavano come fosse difficile per loro quel periodo. E allora ho iniziato a fantasticare con la mente, li ho immaginati a una fiera, una fiera in cui potessero scegliere il papà ideale. Lascia così la storia di Flavio, un marino solo che va alla fiera per scegliersi un papà o per ammirare quello degli altri. Alla fiera ci vanno tutti, non solo i bambini soli, anche mamme con i propri bambini. Lì Flavio che farà? Incontrerà tanti tipi di papà, il papà avventura ad esempio, o incontrerà il papà gourmet, un papà speciale che sa cucinare qualsiasi cosa. Flavio sarà sempre indeciso che papà ha da scegliere, ad esempio c'è anche il papà musica e chissà se ne troverà uno alla fine. È un libro per tutti, davvero per tutti, per i bambini soli, per i papà soli o magari qualcuno che non è ancora un papà. Per tutti i papà straordinari e i bambini con papà straordinari che tra le pagine potranno sfogliare e cercare il loro papà. Insomma, è un libro delicato che parla di amore genitoriale, che parla di papà che non devono avere necessariamente i superpoteri. Spero vi piacerà.